Per noi di SAS diventa importante focalizzarci sul people engagement in questo momento, quindi su come le persone si sentono e stanno all'interno dell'organizzazione e qual è il loro livello di engagement. Ma che cos'è l'engagement? Per noi l'engagement è un commitment, quindi una voglia di esserci all'interno di un contesto, quindi essere allineati a quelli che sono le strategie e gli obiettivi dell'azienda, ma al tempo stesso anche una voglia di fare la differenza. Quando si creano queste condizioni, allora le persone mettono un'energia, un extra effort, un boost che fa fare veramente la differenza, sia ai singoli che poi a tutto il gruppo. Diventa importante quindi andare a misurare quello che è il livello di engagement dei team in maniera tale da concentrarci e andare a fare un piano di azione. E andiamo a misurare, facciamo una misurazione attraverso una serie di dimensioni, che sono dimensioni più legate alla relazione che la singola persona ha con il proprio job e quindi c'è tutta la dimensione ad esempio del sense of accomplishment che percepisce la persona nel day by day, il senso di crescita e il grado di autonomia e responsabilità che fanno veramente la differenza per sentirsi ingaggiati. Ma la relazione col proprio job si inserisce all'interno di un contesto sociale e quindi andare a misurare quello che è il livello di relazione con i propri pari, quindi lo spirito di squadra, l'atmosfera che si respira e al tempo stesso la relazione che c'è con il manager, che diventa la chiave se vogliamo andare a costruire e a far vivere alle nostre persone un'esperienza significativa e far sì che il proprio lavoro non sia solamente un lavoro ma sia qualcosa di più, di veramente ispirante e di significativo. Il tutto si inserisce attraverso una quarta dimensione che è quella della cultura, cultura organizzativa che diventa sempre più importante e una dimensione della cultura è sicuramente la convergenza dei valori personali nei valori organizzativi e quindi questo è stato il primo punto, il primo passaggio per cui ci siamo concentrati nel fare una campagna sui valori e far vivere i valori aziendali nella vita di tutti i giorni. Quindi dei quattro valori aziendali, del be accountable, be curious, be authentic e be passionate, il come ogni persona che significato li dà, il come li vive e come li mette in relazione all'interno del contesto organizzativo.